insomma siamo giunti quasi alla fine della scaletta è stato per noi un piacere enorme condividere questa serata di rientro con voi con il posto che ci ha visti iniziare praticamente un enorme grazie a Legende e a tutto lo staff che ci ha suppoggiato oggi un enorme grazie a tutti voi che siete qui stasera a chi viene da ovunque e vi aspettiamo lì per fare quattro chiacchiere in quella stanza in quel dehors vi aspettiamo nel dehors a fine concerto ma niente proseguiamo con un pezzo eh beh è il mio pezzo preferito questo il suo pezzo preferito è una cover che facevo fin da bambino a chi piace di Judas Priest grazie a tutti 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 grazie a tutti